Una pizza deliziosa. L'osticceria di prima qualità, gusto e tanta passione nel regalare gioie per il tuo palato. Non puoi non provare le nostre specialità, non puoi non venire da noi. Melis Pizza lo trovi in Viale Europa 82 a Castellammare di Stabia. In un antico convento di Castellammare di Stabia, immerso nel verde dello splendido scenario naturale del Golfo di Napoli, sorge dal 1998 la RSA, Oasi San Francesco. L'Oasi San Francesco, in convenzione con l'ASL Napoli 3 Sud, si pone come area residenziale di intervento su pazienti anziani non autosufficienti, disponendo di personale specializzato ed altamente qualificato, in una struttura confortevole e all'avanguardia. Oasi San Francesco, salita qui si sana 30, Castellammare di Stabia, www.rsaoasisanfrancesco.com Oasi San Francesco, l'elisir di lunga vita. Troviamo Fabio Sorrentino, il pocio per tutti quanti noi. Ciao Fabio, come stai? Ciao Ciro, tutto bene? Beh Fabio, allora ci si sta impegnando tanto comunque con questa colanese, stai trovando anche un po' di spazio dopo l'esperienza da cantonare, quella di Campobasso. Sì, sì, abbiamo cominciato già da un mese, siamo a un buon punto, abbiamo fatto un'ottima prestazione oggi, abbiamo avuto un'ottima intensità, non siamo riusciti a vincerla, però comunque è stato un buon test per il campionato. Ecco, test buono per il campionato, test importante anche per te, comunque sei tornato a casa, perché questa è casa tua. Sì, sì, infatti sono stati quattro anni per me speciali, tu lo sai, ogni volta che torno comunque fa un certo effetto. Spero comunque anche, non so, tra un anno o due anni di vestire di nuovo questa maglia, chissà, forse in un'altra categoria. Ebbè, noi te lo auguriamo ovviamente anche perché noi siamo seriamente convinti che è una cosa che si può fare, soprattutto contenti eventualmente di rivederti qui al Menti. Fabio, le caratteristiche sono sempre le stesse, quella di cuore, grinta. Io ricordo sempre il tuo, quel passaggio in profondità per quel gol a Caserta, che fu spettacolare. Ecco, le tue caratteristiche sono le stesse, però tu sei cresciuto, sei cambiato, anche fisicamente. Sì, sì, in primis metto sempre il cuore e la voglia, poi tutto l'altro viene di seguito. L'importante è mettere questa la voglia per me. Grazie Fabio. Grazie a te. Grazie a te.